galuccio ritorna speravamo e alla fine il galuccio care è tornato dopo essere stato dimenticato svanito nei decenni eccolo un poco bianco e un po caramellato come le focacce dolci chiresi di cui è figlio ma più spiritoso con la cresta e le piume sta rinascendo dai forni di panettereo pasticcerie di chieri ed intorni gustoso come la focaccia più comodo come monoporzione da mordere gustare come una foglia di dolcezza era un prodotto della tradizione chiarese gioia di bimbi e non solo fino agli anni 70 ora torna ruspante a farsi mordicchiare il galuccio si propone oggi come una brioche da colazione o dessert come snack come compagno nel pomeriggio di un bicchiere di cari malvasia o vermouth anche come delizioso ricordo per i turisti tradizione firmata chieri producono il galuccio care da sabato 26 ottobre 2024 a chieri bar victor 37 panificio paiola pasticcerie avidano bottiglieri dolci e dolci e savio ad andezeno panetteria pasticceria caffetteria coppo e panetteria sotto i portici a pino torinese panificio il vecchio forno di valle ceppi a poirino pasticceria orchidea grazie a tutti